Eccolo qui, ora mi dovrebbe trovare l'avversario subito perché siamo pieni Dai, dai, ci gioco volentieri, dai, 2521 No, vabbè, non ci posso credere Chi è questo? No, sì, 2521 ci pensa già la seconda mossa Mamma mia Ok, attenzione a questa partita Ammazza quanto ci pensa per la terza mossa No, ma io non voglio insinuare, ragazzi, non voglio insinuare niente Non voglio insinuare niente Ora però il profilo andiamo a vedere Ecco, infatti, per ora sta giocando le migliori, ma ci sta, eh Dai, perderò un po' di tempo, ma andrò a vedere il profilo Oh mio Dio Cosa sta succedendo a questo sito? Cioè, che cosa sta succedendo su questo sito? Questo ha aperto l'account oggi Sta a 2500 e passa Lo dovrebbero bannare all'istante Cioè, chiedo scusa se mi esprimo in questo modo Ma le ha vinte praticamente tutte le partite Ha vinto tutte le partite Ha fatto l'account oggi Problemi a un punteggio bassissimo 1188 Rapida a 2521 È uno che non perde mai E ora qui non ce le fa vedere le partite perché il sito è troppo pieno, diciamo Ha dei problemi Però questo è... Cioè, questo è... Ragazzi, questo proprio è... Vabbè, questo... Vediamo, dai Va bene così Tanto ho detto in apertura... Eh, la mossa migliore, chiaramente Ho detto in apertura della live che anche se Becco Cheater non mi interessa Si fa per migliorare Perché anche Stockfish bisogna vedere fino a che punto riusciamo a tenergli testa Giustamente allora lui sta giocando tutte le mosse migliori Ma proprio con una precisione chirurgica proprio Eh, tutte queste sono tutte le migliori ragazzi Non c'è niente da fare Questo uno dei... Eh, questo qui è uno dei professionisti di chess.com Brauerfrancotto Mi piace sta cosa Ok, qui ha fatto una cosa strana Non so se l'ha fatta apposta Oppure se c'è il trucchettino Ah no, non c'è nulla Perché in realtà c'è la donna che... Ok, no, no, stavo scherzando Eh, facciamo torre 1 No, no, ma... Direi che hai materiale per un video su YouTube Te lo bannano in diretta Anzi no, non ci stanno più diro Soldi, soldi Beh, grazie Ian ma non credo che lo bannino più in diretta Perché ha un sacco di problemi il sito in questo modo In questo momento, volevo dire E quei bann in diretta per ora forse non avvengono più O forse sì, non lo so, vediamo eh Però questo è... Questo sta facendo una cosa che neanche... Cioè non lo so... Neanche Nakamura praticamente Io ero tutto contento Ho detto cavolo è un 2521 Rapid che gioca con me Che bello Vado a vedere il profilo E il profilo è stato creato oggi Ha vinto praticamente tutte le partite Ha vinto Intanto non ne ha mai persa una Ha fatto 11 vittorie Un pareggio Vorrei tanto vedere il pareggio Però... Lasciamo perdere Lasciamo perdere e giochiamo Per ora stiamo reggendo Abbastanza Anche se sono molto preoccupato Sì sì, sono molto preoccupato qui Perché dopo 13 mosse La posizione già Secondo me è abbastanza complicata A tal punto Che io non so più bene Come gestirla Ok? Per ora lui sta facendo Diciamo mosse normali Però le mosse praticamente migliori Io provo a fare H3 Servirà qualcosa questa H3? Non lo so Giochiamo H3 Quali idee potrei avere? Ok questa... Cioè non lo so eh Quale sia la sua idea Forse mi vuole intrappolare L'alfiere Cioè me lo vuole proprio chiudere Con questa mossa A un certo punto Qui chiaramente Io non posso attaccare Cioè non posso catturare E lui magari sta preparando Anche mosse come Donna B6 Per attaccare il pedone in B2 Quindi su torre D1 Mi aspetto ad esempio Donna B6 E... E io non posso fare nulla È incredibile Cioè devo ritornare indietro Con l'alfiere E poi Entro in una posizione Con tre pezzi Completamente fuori gioco Mentre i suoi pezzi Poi possono essere Attivati molto velocemente Per attaccare Quindi qui già sto peggio Con una manovra Abbastanza insolita Da parte sua Ovvero C5 C4 Non l'avevo mai vista giocare C4 Mai 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 L'avevo mai vista giocare Ok Bene così Allora qui cosa facciamo Che bella domanda Forse la migliore È questa Proprio Ma su questa Mi arriva a cavallo In D5 Sto furbacchione Mi fa a cavallo D5 E a quel punto Io ritiro L'alfiere Lui potrebbe fare Questa E se io catturo Lui cattura di donna Comunque ha una struttura Pedonale debole E al limite Dopo che lui fa questa Se io catturo Magari lui potrebbe Catturare Io posso catturare Con scacco Torre B1 Chissà se riesco a riprendere Indietro questo pedone B2 Questa è la domanda Però ecco L'unica che vedo Qui che potrebbe In qualche modo Forse reggere Questa Lei Quindi la facciamo Perché la mia idea È che se lui Non dovesse spingere Il pedone La mia idea È di giocare Pedone C3 Alfiere B1 E alfiere C2 Una cosa del genere E ora vediamo Ora vediamo Qual è la sua idea Invece Perché qui sto anche Attaccando Niente Lui la fa proprio Semplice ragazzi Lui dice Ma te Ci pensi troppo Quando giochi a scacchi Non ci devi pensare Così tanto Eh hai ragione Hai ragione Hai ragione Hai perfettamente ragione Che ci posso fare Al limite Posso provare questa Su donna per Questa Vabbè dai Questa È da abbandono Questa Torre B8 Oddio mio Che casino ragazzi No Ma questa è straperza Ciao Rick Grazie mille per l'abbonamento No ma voi Non mi dovete suggerire Non mi dovete suggerire Perché voi magari Guardate la partita Da Da Stockfish E la Valutazione Ma è bene Faticare contro questi Comunque È bene faticare Non mi aspetto Non mi aspetto di vincere La partita Che sia chiaro Non mi aspetto In nessun modo Di vincere Questa partita Assolutamente Sto pensando Se torre B1 Sembrerebbe un po' Passivetta Come mossa Torre B1 Ma magari È la mossa giusta Chissà Chi lo sa Vabbè dai Giochiamo questa invece Alfiere In E3 Il tipo Ha la donna Sotto Il tipo Ha la donna Sotto E gioca Alfiere C5 Ma guarda un po' Perché chiaramente Se qui catturo Lui cattura Io catturo Lui cattura E la donna Mi rimane sotto Ok Queste cose Riusciamo a vederle Sì Bene Allora catturo Vediamo di cosa prende Penso Di torre Sì Di torre Di torre E allora ciao Buonanotte Ho perso Abbandono Vabbè dai Questa è da abbandono Forse prima c'era anche A5 Perché sulla cattura Potevo catturare Il punto è che Non posso rimanere Con il pedone In Impresa Non posso proprio Rimanere con il pedone In presa Quindi Forse mi conviene Fare una cosa del genere Oh sto reggendo Contro uno che sta Molto probabilmente Utilizzando un motore Ma credo ancora Per poco Cioè Donna D4 Ho trovato questa Ok Lui sposta Donna D4 Lui sposta Molto interessante Io posso fare Finalmente Pedone C3 Però questo Mi mangia vivo Ragazzi Pedone C3 Torre qua Torre qua E io mi sa che posso Abbandonare Pedone C3 Torre lì E da abbandono Perché G3 Segue alfiere Per Vabbè Buonanotte Sì vabbè Ciao Allora niente Mi tocca fare Questa Mi tocca fare Torre 5 Se non ho visto male Quindi Torre 5 Mi aspetto la cattura Catturo Donna Per Donna Per Vedete c'è sempre Qualcosa Questa è già D'abbandono Ho retto 20 mosse Contro Stockfish Giocando a 10 minuti Non avendo Chissà quanto tempo Per pensare E allora E allora E allora Vediamo su questa Sono curioso Così difendo anche La torre E che dì Che dì Che dì Vabbè ma questo è un pro Cioè questo è Professionista Questo è Un professionista Ma su questa Che ha Che dì Ma che cosa vuoi Che abbia Tutto Tutto Ha il mondo Nelle sue mani Praticamente Che vuoi che abbia C'ha tutto Guarda qui Quanto ci mette A catturare Questo è il segno Quello lì È il segnale Praticamente Quello è il segnale Defend Dai Che vuoi fare Su questa Chiaramente Credo Arriverà Torre lì Questa Vabbè Facciamola Facciamola Non ci è mai capitato Un citer bannato In diretta Mi sa Forse sì Qualche volta Sì sì A volte è capitato A volte è capitato Così No purtroppo Non va assolutamente Bene Mi può attaccare E non posso lasciare Questo piedone Perché mi cattura Proprio mi cattura Guadagnando un tempo Sulla torre E se sposto Questo poi mi entra In prima traversa E mi massacra Però voglio dire Ho retto bene Per ora Sto reggendo Benino Benino Non benissimo Però benino Sì Guarda Vengo qua Perché voglio venire qua E cercare di catturare Anche se c'è torre 6 Torre Oh Questa è interessante Carina Wow Wow Offriamo il cambio E c'è torre qua Ho perso Vabbè Ho perso ragazzi Ora fa finta Anche di pensarci Qui tanto No ma perché Quando sai che giochi Contro un Programma Questo al 99% È un programma Cioè sei Veramente sconsolato Guarda qui Per catturare Quanto ci mette Cioè Se questo Ha l'anticit Il migliore al mondo Se il Cess.com Ha l'anticit Il migliore al mondo Questo andrebbe Bannato subito All'istante Non gli puoi permettere Di giocare 12 partite Con questa 13 partite Perché questo qui Non vede neanche Rea Cassette Come è mossa Capito La devi vedere Dal motore Rea Cassette E E niente Ciao Sniper Ghost Cosa? Non ho capito Ci hai fatto il video? No Questi non li batti Ma questi battono Anche lo Stockfish Quello che utilizziamo Noi per analizzare Di Cess.com E di Cess Questi lo battono Questi che hanno Questi programmini qui Lo battono Stockfish Che trovate online Sono ancora più forti Utilizzano altri programmi Magari utilizzano Stockfish Quello normale Capito? Che è ancora più forte Quello scaricato Sul computer Che è ancora più forte Cioè è inutile Perché la sto giocando? Guardate Voglio fare una finta Guarda Voglio catturare qui Vediamo che fa Vai Vediamo giusto il tempo Oh L'ha vista subito Meno male L'ha vista subito Abbandono Bella Bella partita Questa Ci siamo divertiti Ecco Sarà lui Veramente Sarà questo Veramente il tipo Che non mostra mica La faccia di profilo Chiaramente Buon per lui Buon per lui Alla fine È un onore Aver giocato Contro un 2537 E vediamo l'analisi Di questa partita Io spero In qualche aggiornamento Particolare Tutto dal libro Chiaramente Io la teoria Qui un pochino La conosco Quindi qui il libro Lui qui mi fa la migliore Io catturo Lui cattura Io gioco la migliore Lui cattura Io catturo Lui gioca Alfiere qui Penso Che sia una delle migliore O comunque la migliore Torre in E1 Alfiere 6 Pedone D3 Tutto nella norma Alfiere F4 La migliore Cioè io sono contento Di essere arrivato Fino a qui Sinceramente Lui gioca Torre C8 Io gioco Questa Che è una Imprecisione Perché qui La La posizione Si fa sempre più difficile Perché a furia di giocare Le mosse proprio migliori La precisione Richiesta Per trovare poi La mossa giusta È molto alta Quindi È questo il punto Devi essere veramente Molto bravo poi A capire bene La posizione Quindi H3 Comunque è una mossa Che non è che mi dà Così tanto Svantaggio È giocabile Lui gioca C4 Apparentemente In precisione Per questo motore Io catturo Lui cattura Cavallo qui Ok È giusta Donna B6 È molto forte Alfiere 3 Wow Sono contento Ho trovato la migliore Molto bene Direi Lui fa Alfiere C5 Alfiere per C5 Non è precisione Però fino a qui Siamo pari Comunque Quindi Ho retto Ho retto Almeno 20 mosse Si 20 mosse 19 mosse 20 mosse Ok Perfetto E qui poi Magari ho iniziato a sbagliare Questa già È buona Lui questa Questo è un errore E vabbè Qui ragazzi Mi sta per arrivare Una cosa devastante Non so se avete capito Questo piano qui Come lo fermo Stockfish riesce Dice H4 No 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 Non è umana Non è umana H4 Cioè forse si Perché Per difendere Però insomma Sono cose Non lo so Meglio andare A fare un'altra partita Dai Meglio andare A fare un'altra partita Tanto magari Se poi lo bannano I punti Me li ridaranno indietro Non ci sono problemi Non ci sono problemi Nessun Non ci sono problemi Non ci sono problemi Non ci sono problemi In libro Dice